Ciao Leonardo, mi devo chiedere un grandissimo favore, io sono il salutatore del blog, se puoi salutare tutti gli utenti su YouTube Salutiamoli, tutti, tutti, come si chiama il blog? Io sono il salutatore del blog e il salutatore del blog Saluto il salutatore, guarda che cappottamento che c'è Salutiamo tutti i tuoi fans, tutti i social network Tutti Tu stai su Twitter e rispondi a tutti? Certo Ciao a tutti, grande Leonardo Piraccioni, Cristo al TG Grazie, ciao Grazie, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti